Anticipato il discorso... ...con mossa del pensione da sempre. Questa giornata naturalmente è ricoriata perché non fermenterò più il dolore, ma è significativa e quindi non potevo mancare. Grazie, grazie tanto. Grazie. Grazie. Il centro è stato l'intervento dei giovani. Beh, il centro è stato l'intervento dei giovani. Sono preoccupato prima, ma non è fortuna. Mi hanno detto quella ministra delle visioni che mi guardava con occhio affettoso, perché ho detto chissà che cosa pensava dopo che hanno detto il mio intervento. Invece mi ha detto uno, guarda che si guardava con affetto. E' una madre. Fa ingresso il presidente della Repubblica. Grazie. 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 Signor Presidente della Repubblica, autorità, signora Bachelet, familiari di Vittorio Bachelet, signori e signori. Sono veramente lieto di porgere i miei saluti più cordiali in occasione di questo seminario su Vittorio Bachelet, l'impegno come responsabilità e come esempio, organizzato in collaborazione col Consiglio Superiore della Magistratura, l'Associazione Vittorio Bachelet e l'Azione Cattolica Italiana, che ringrazio sentitamente per aver promosso assieme al nostro Ateneo la celebrazione del quarantesimo anniversario della scomparsa dell'illustre docente studioso che dedicò la sua vita al servizio del Paese. Signor Presidente, signora Bachelet, Giovanni e tutti voi. Non è facile per me perché ho ancora il ricordo di quel 12 febbraio quando mi chiamarono, io ero fuori università in quel momento, ed era steso lì, non c'era ancora neanche un lenzuolo. Sono passati 40 anni e mi rendo conto che ricordare Vittorio lo si può fare in modi diversi e qualunque modo tu scelga ti viene fuori una grande personalità a tutto tondo. Grazie.